E' stata una visita straordinaria. In primis per quanto riguarda l'ospitalità, ma io ero stato già nel 2018 a Fuping e ho trovato una grande vivacità. La sensazione non può che essere stupenda, meravigliosa, perché Jean de Gen è la culla millenaria della ceramica. Chi ama la ceramica dovrebbe fare questo viaggio almeno una volta nella vita. Ed è stata l'occasione per tutta una serie di relazioni e di contatti con le autorità che ci consentono e ci consentiranno di avviare degli scambi culturali di altissimo profilo. Concludendo, è stato veramente un viaggio straordinario, un'esperienza straordinaria. Il popolo cinese è straordinariamente ospitale e mi auguro di tornare qui presto insieme ai miei colleghi. Grazie Cina!